L'Italia si prepara a fare il suo esordio all'Europeo sabato 15 giugno contro l'Albania. Gli azzurri sono arrivati in Germania e si stanno allenando in vista del primo importantissimo match. Italia, le condizioni di Barella, frattesi e fagioli.Ci sono comunque novità sulle condizioni di Barella, frattesi e fagioli, come riportato da Peppe Di Stefano su Sky Sport, infatti, che ottimismo per quanto riguarda il centrocampista ex Cagliari che non ha giocato nelle partite contro Turchia e Bosnia. Gli esami per fagioli, invece, non hanno evidenziato problemi particolari anche se non si è allenato nel lunedì 10 giugno e né martedì. Anche nella giornata di mercoledì 12 giugno farà un lavoro differenziato. Infine per quanto riguarda frattesi, martedì 11 ha fatto una prima parte di allenamento e si è poi fermato per un lieve affaticamento e ha quindi preferito fermarsi. Oggi, comunque, potrebbe essere una giornata decisiva per capire le sue condizioni. L'allenamento delle ore 17, poi, potrà dare qualche informazione in più su tutti e tre. Grazie a tutti.